No, non è Flavia che canta. Eh sì, magari. È arrivato un messaggio, per un momento ho pensato che fosse un lancio live di Flavia. Sì, sì. Giuro, giuro. 3515241101, state ascoltando letture metropolitane su Radio Elettrica e Flavia ha cantato soltanto fuori onda, non durante il brano. Sì, ma al popolo, credo, interessi poco. Questo è un brano di Diana King, in realtà, un brano del 95 che è stato, insomma, variamente coverizzato e tra le versioni più conosciute c'è questa di Celine Dion, che si trova nell'album Let's Talk About Love del 1997. Perché parliamo di Celine Dion? Perché finalmente dopo un certo periodo di tempo in cui rimandavo la visione ho visto I Am Celine Dion, che è un documentario che, se siete interessati, lo fate su Prime. È proprio una produzione Amazon, quindi resterà lì. Documentario diretto da Irene, immagino, Taylor, che racconta la vita e la carriera di Celine Dion, ma in particolare questa parte più recente, nella quale lei è, come avete notato, diciamo, sparita dalle scene e ha finalmente, diciamo, raccontato al mondo di questa sua malattia, che è la sindrome della persona rigida, che è una sindrome, credo, degenerativa, insomma, comunque che va verso il peggioramento, una forma di neuropatia periferica, che praticamente, oltre a dare molto dolore, prevede un irrigidimento improvviso dei muscoli, in realtà coinvolge il sistema nervoso centrale e come, diciamo, parte esteriore si mostra, diciamo, degli spasmi, e una ipertrofia muscolare, cioè, appunto, si diventa rigidi. Questo ovviamente non vale solo per i muscoli, diciamo, più esterni, ma anche per i muscoli interni e nei muscoli interni c'è il diaframma e c'è la laringe, che non so se è precisamente definibile, insomma, comunque fatto sta che c'è un irrigidimento anche delle parti interne. questo è una malattia rara, ha un'incidenza di uno su un milione, quindi abbastanza rara, e Céline Dion in realtà ha avuto i primi sintomi, come racconta in questo documentario, le prime avvisaglie, ben 17 anni fa, quindi non adesso, e questo getta, diciamo, una luce molto particolare su tutta la sua carriera negli ultimi vent'anni. 17 anni fa lei aveva, appunto, si può prendere la discografia di Céline Dion e vedere che c'è stato un sensibile rallentamento della sua produzione proprio in corrispondenza di questo... 18 anni fa, quindi sarebbe inizi di 2000? No, un po' di più. Dopo il 2005, infatti c'è una rarefazione delle sue pubblicazioni dal 2007 in poi. Questo però non vuol dire che in realtà si sia fermata nei live, ed è questa un po' la parte che almeno per me è stata più commovente. Questo è un documentario molto intimo, che ci racconta in realtà, scusate ho sbattuto sul microfono, ci racconta in realtà due cose. Da una parte, sicuramente, diciamo, non chiudiamo gli occhi di fronte all'enorme privilegio di Céline Dion, perché Céline Dion è una persona che ha avuto grande successo nella vita, che ha avuto grande entrate economiche e che sicuramente vive in una situazione di grande assistenza. È una persona che si può permettere una cura, diciamo, di plasma, una cura... No, scusate, come si chiama le... perché sono così? Una terapia? Una terapia delle cellule, quelle che... Staminali. Staminali, bravo. Una terapia di staminali, che per queste malattie neurodegenerative è molto importante e che credo costi, soprattutto in America, uno sfacelo di soldi. Da oggi forse... Vabbè, lasciamo stare. Uno sfacelo di soldi, anche per Céline Dion, e però Céline Dion quei soldi ce l'ha. Quindi, insomma, si può permettere questo, si può permettere di avere un team sanitario e di fisioterapisti, praticamente H24, che la seguono, e che, come è stato evidente anche nel documentario, per esempio in caso di attacchi di questa malattia, che è una malattia effettivamente invalidante non solo per una persona che fa il lavoro di Céline Dion, ovvero la cantante, che quindi è soggetta anche a grandi momenti di stress emotivo che si sommano alla malattia stessa, cioè essendo una malattia che ha un'origine neurologica. Chiaramente tutto ciò che va a spingere sulla parte neurologica, ma anche emotiva, innesca questi momenti, diciamo, questi spasmi. Quindi, per esempio, nel film a un certo punto lei fa una sessione di registrazione con una fatica mostruosa, perché chiaramente voi pensate che siete Céline Dion, avete sempre cantato come Céline Dion e a un certo punto non avete più la voce di Céline Dion, ma non perché siete invecchiati. Così, così. Non perché siete invecchiati, perché è passato del tempo e per cui la voce è piano piano peggiora, che voglio dire sarebbe anche naturale, ma proprio di punto in bianco. Così, proprio così. È veramente fastidioso, è molto fastidioso. No, è drammatico. Lei, infatti, più di una volta, in questo racconto veramente a cuore aperto, con la telecamera che la riprende dall'alto, anche lì, mostrando i segni del tempo. Ora, Céline Dion non è mai stata, diciamo, fortunatamente vista troppo col male gaze. probabilmente sì, magari in senso negativo, però ci si è sempre molto concentrati sul suo talento. Però io già me ne immagino le voci tutte. Ah, ma com'è invecchiata Céline Dion? Eh sì. Tra le varie cose si invecchia, sappiatelo. Comunque, fatto sta che in questo documentario a un certo punto c'è proprio un lungo momento dedicato ad uno di questi attacchi, in cui noi vediamo praticamente in tempo reale, ovviamente, registrato, però, insomma, tutta la lunghezza, che cosa succede a questa donna? Che ovviamente rimane immobile, non può parlare, non si può, non può muovere nessun muscolo e in quel momento ha anche molto dolore, perché tutti i muscoli sono praticamente tesi. E c'è il suo, diciamo, fisioterapista medico che la segue, che fa queste lunghe sessioni di riabilitazione, che sta lì, che sa che cosa deve fare, che gli somministra la medicina che credo sia un mio rilassante, una roba per poter, insomma, rilassare i muscoli. E noi questo lo vediamo tutto in presa riletta, con anche, devo dire, una certa, non voglio chiamarlo coraggio, perché anche qui siamo in termini di privilegio, c'è assolutamente di peggio, è ok. Però è sicuramente un modo di aprire se stessi, che raramente ho visto. Da persona che ama cantare e che ama ascoltare delle belle voci, devo dire, per me è stato particolarmente toccante vedere lei che non riconosce più la sua voce. È una cosa che, non lo so, è come se voi pensate di avere un talento, una cosa vostra che considerate, come dire, un punto di riferimento, no? Io so fare benissimo questo, io ho, non lo so, dei bellissimi occhi. Cioè, una cosa fissa della vostra vita, su cui voi avete, nel suo caso ci avete veramente costruito la vita, che a un certo punto non controllate più. Cioè, lei non, fondamentalmente, questa cosa non è risolvibile, ora a meno che non scoprino una terapia, cioè ci sono dei modi per, come dire, fermare un po' gli effetti, controllarli. Per un certo periodo di tempo lei racconta, per esempio, che per molti anni è stata praticamente dipendente da il volume. Perché quello, insieme ad altre cose, la aiutavano a mantenere la calma, da un certo punto di vista, e anche quindi il controllo sui muscoli della voce. Però questo aveva un effetto limitato nel tempo, per cui lei diceva pensate, l'ansia di dover fare un concerto, quando senti che la tua voce in quel momento c'è, ma questa cosa durerà, fai conto, venti minuti. Quindi tu venti minuti vai, poi mentre stai lì, che tutti applaudono, e non è che è un concerto con dieci persone, cioè Celine Dion faceva Resident a Las Vegas, quindi c'era migliaia di persone, tu a un certo punto senti che non potrai più cantare per la prossima ora e mezza. E che caspita fai? Quelli stanno là davanti. Lei dice, io mi inventavo dei trucchi, che ne so, giravo il microfono verso di loro. Ogni tanto, è stato veramente molto commovente, quando l'ha detto facevo finta che il microfono non funzionasse. Cioè faceva quella cosa che fanno ta-ta-ta per far vedere che c'erano problemi tecnici e in molti casi è dovuta uscire interrompendo il concerto. E poi si inventavano, che ne so, c'ha l'influenza, c'ha male a un orecchio, cioè si sono inventati di tutto, fino a che poi a un certo punto lei ha confessato questa cosa, mi pare, un paio di anni fa, due o tre anni fa, ha fatto un video sui social, finalmente raccontando e niente. Il documentario si intitola appunto I am Celine Dion, io sono Celine Dion, orloare su Prime. Forse sì, diciamo che in questi giorni abbiamo già abbastanza motivi per deprimerci, eviterei, però ecco, comunque è un documentario per me molto interessante, ho scoperto anche cose della sua vita che non conoscevo, si parla anche dell'inizio della carriera. Lei fa parte di una famiglia numerosissima, tipo dodici fratelli e sorelle, una cosa infinita, della parte francofona del Canada, il Quebec, e quindi racconta anche un po' gli inizi della sua carriera, quando è diventata famosa, i primi grandi concerti. Ma vista da adesso, racconta. Quindi è sicuramente interessante anche per chi appunto conosce tangenzialmente la cantante della canzone di Titanic, è un po' così. Però per approfondire di più, oltre a invitarvi a esplorare la discografia di Celine Dion, vi propongo questo ascolto. S'ora di elettrica è molto facile, è molto probabile che molte orecchie abbiano sentito il live di Made in Japan di Purple. Questo live in questione ha dentro Strange Kind of Woman un duetto notorio, piuttosto adesso diventato quasi un classico, anzi sicuramente un classico dove la voce e la chitarra duettano facendo, seguendosi. Non c'è una canzone, ma è proprio un emettere suoni, duettare, appunto, battagliare. Qui credo che troverete pane per i vostri denti, ma soprattutto questo pane vi potrebbe far cambiare idea, almeno su Celine Dion, quantomeno anche sul resto della produzione, anche francese. Le balè!